Io pensavo se, come si dice, uno avesse sbagliato a fare una nuova e fosse infilato, io se no, tu, un tonfo, una posta e poi viste scappare e basta. Hanno sfondato la porta blindata delle poste utilizzando l'automobile come una riete, poi armati di pistole hanno fatto irruzione nell'ufficio, una volta dentro hanno minacciato un'impiegata e si sono dati alla fuga con l'incasso. È successo questa mattina attorno alle 10 a Montemignaio, piccolo comune del Casentino, in provincia di Arezzo. Hanno intimato l'impiegata di consegnare i soldi, buttandola in terra e puntando anche la pistola nella tempia. Ha avuto sicuramente una brutta mattinata. È provata perché non è una cosa bella trovarsi con una pistola puntata alla testa. In azione due malviventi a volto coperto che dopo aver messo a segno il colpo sono scappati a bordo dell'auto utilizzata per sfondare il vetro, abbandonata poi a qualche chilometro di distanza. Noi qui non siamo avvezzi a queste tipologie di cose, quindi ma sai ora non ci sentiamo mai sicuri dove sei. Il bottino è ancora da quantificare ma potrebbe essere ingente, oltre 20.000 euro. Proprio oggi è infatti il giorno dei pagamenti delle pensioni. Io spero non vengono mai in casa, mezz'ora prima che c'era stato io che ho riscatto la pensione della mia mamma. L'uomo non mi ci sono trovato. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, al vaglio degli inquirenti, anche le immagini delle telecamere interne all'ufficio postale. L'uomo non mi ci sono trovato.